buongiorno a tutti allora scusate se sono un po stabile ma il cellulare è così stamattina c'è un po di giri da fare però volevo farvi vedere come mi ero vestita perché perché praticamente questo è tutto un outfit tranne le scarpe che sono della nike è tutto un outfit che io ho preso al negozio della mia amica che si trova a roma potete trovarla anche su instagram vi lascio qui sotto scritto anche qui in sovraimpressione insomma vi lascio scritto il suo instagram e il nome del negozio la via e tutto quanto si trova a roma in zona cento celle adesso sta facendo ancora i saldi estivi però anche delle nuove cosine autunnali che le sono appena arrivate quindi trovate tutto scritto qui insomma impressione mentre vi sto parlando e niente e vi volevo far vedere un attimo le cosine presente questi sono leggerissimi sono per il periodo di adesso non sono felpati eccetera però sono molto molto belli col cavallo basso che a me piacciono da morire maglietta maniche corte nera semplicissima con la stampa e questo gilet di jeans un po lunghino è un tipo di abbigliamento che a me piace tantissimo e niente io scappo perché è già tardi in realtà non è tardissimo però devo fare talmente tante cose che è tardi quindi aurora sono svegliata adesso prendo alessandro lo carico in macchina e si parte allora eccoci tornati allora sono mezzogiorno e 35 ho fatto tutti i giri che dovevo fare non potete capire cioè mio figlio che deve andare in prima alimentare 12 libri io devo capire come fanno a usare 12 libri in prima alimentare che non sanno manco leggere scritto vabbè comunque però ancora non sono pronti quindi li arrivato a prendere oggi pomeriggio che me li fodera e tutto quanto e poi niente ho dovuto fa e potuto essere sempre per lui per la scuola sono andata a pagare una bolletta e sto tornata a casa a casa avete visto ho passato l'aspiracolvere c'ho uno stendino da piegare ancora però adesso non c'ho voglia non c'ho assolutamente voglia adesso quindi lo faccio dopo pranzo poi dopo pranzo viene una mia amica perché deve partire va a quattro giorni a rimini e visto che io ho una marea di cose carine nell'armadio di vestiti eccetera allora viene a prendere un po' dei vestiti insomma perché lei c'ha sempre tutto nero molto monotematica voglio anche rifarmi le unghie oggi pomeriggio approfitto del fatto che aurora va a fare un concorso di disegno e mi rifaccio le unghie perché mi si sono allungate tantissimo e poi so rovina questa si è rovinata quasi subito quindi mi rifaccio le unghie e non so come farle però essendo corte comunque devo prima farle allungare un po' prima di farlo allungamento quindi per ora farò un colore standard diciamo quando poi riuscirò a farle allungare farò un colore un po più particolare e niente so stanchissima ho già bevuto in quasi tutta la mia acqua mio il primo litro d'acqua ultimamente sto bevendo due litri d'acqua al giorno e se vede perché sto sempre al bagno però dai suoi frutti da veramente suoi frutti e niente adesso penso a cosa fare per pranzo perché non ne ho la più pallida idea e nel frattempo guardo Don Matteo ebbene sì ragazzi sono quella che guarda Don Matteo tutte le sacrosanti estate guardate che lo mettono io lo guardo ah e ho visto anche che ricominciano tutti e quante le trasmissioni di Maria De Filippi nel frattempo perché ho visto che ricomincia vabbè uomini e donne ricomincia ricomincia tossicchevales e ricomincia anche amici quindi proprio Maria alla grandissima io amo guardare cioè scusate ma ecco che io amo guardare i programmi di Maria De Filippi sono una casalinga proprio disperata mi piace anche guardare le serie delle casalinghe perché prendo spunto pure per casa per alcune cose e infatti adesso sto guardando American Housewives su Disney Plus e mi sta piacendo da morire da morire proprio vabbè poi questo è un discorso che se volete ne riparleremo niente dai vado a pensare a qualcosa da fare per pranzo anche se io sinceramente non c'ho voglia io quasi quasi mi farei entramezzino visto che ce l'ho vediamo tanto vi avverto che dalla prossima settimana si ricomincia l'allenamento devo ricominciare l'allenamento e poi mi sono fatta una sorta di mamma con mamma se vede è che c'ho fame una sorta di mappa concettuale per darmi degli obiettivi perché praticamente per me settembre è un po' che era? che caspita era? vabbè senti un rumore stranissimo dalla dietro ma guarda che mi scappa a quartopo io strillo vabbè vi dicevo ho fatto una sorta di mappa concettuale per darmi degli obiettivi perché praticamente per me settembre è un po' come gennaio per tutto il resto del mondo nel senso che per me l'anno inizia a settembre perché vuoi un po' diciamo le vacanze ti riposi non pensi tantissimo lasci sta tante cose per me settembre è un po' il ritornare alla routine quindi scuola casa e tutto il resto e mi sono fatta un po' una mappa concettuale di quelli che voglio che siano i miei obiettivi per quest'anno per non perdermi un po' troppo perché ultimamente effettivamente me sono un po' persa e ho superato un po' di cose altre ancora le devo superare però vabbè queste sono cose un po' lunghe un po' tanto tanto introspettive che non sto qui a raccontarvi perché non è il luogo adatto voglio che questo rimanga comunque un un canale carino e divertente però ecco mi sono fatta sta mappa concettuale dove ci sono tante cose tra cui la voglia di farmi un corso di zumba perché io ho sempre visto questi che facevano questi corsi di zumba però non l'ho mai fatto perché ci hanno sempre degli orari assurdi cioè ci hanno degli orari tipo alle 8 di sera alle 9 di sera cioè cose fuori dalla mia portata però visto che quest'anno dovrebbero riaprire la palestra qui nel mio paese io ce l'ho proprio sotto casa cioè faccio una discesetta e sto arrivata a sto punto ne approfitto se ci fosse zumba così Aurora se ne va in piscina ha smesso di fare il pattinaggio non lo vuole fare più e io sinceramente non è che la costringo anzi l'unica cosa che mi ha fatto comprare i pattini mi ha fatto spendere 100 euro per comprare i pattini e l'ha usati due mesi perché poi c'è stato il covid e tutto quanto però quelli facilmente li riesco a rivendere allora Alessandro continua calcetto e quando sarà tipo marzo così lo porterò in piscina se vorrà e io volevo un po' farmi qualcosa oltre ad allenarmi a casa volevo fare un qualcosina proprio in palestra un corso però non non voglio fare bodybuilding perché bodybuilding io l'ho fatto e sinceramente mi so sempre trovata a dove sta lì due ore e io due ore non ci posso sta quindi mi allenerò a casa farò sempre gli allenamenti di carolina che io avevo già fatto e che mi piacevano tantissimo perché non erano erano sempre differenti diciamo non erano sempre standard tutti uguali e poi mi piace proprio come tipo di allenamento devo essere sincera però volevo farmi un corso di quelli collettivi tipo aerobica queste cose qua e zumba però era quella che a me più interessava un po' perché comunque si parla sempre un po' di danza quindi quando si parla di danza a me piace sempre tantissimo io ho fatto danza per una vita ho fatto salsa con samuele i primi tempi l'ho smessa quando praticamente ero al settimo mese di gravidanza di alessandro quindi l'ho fatta per tanto tempo e però volevo riprendere un po' qualcosa ecco su quel genere ora salsa non posso perché vorrebbe dire che io dovrei dirlo anche a samuele e lui lavora e poi è sempre dopo cena diventa un po' un casino invece zumba se lo facessero a un orario decente anche che siano le otto le nove qui sotto casa mia sarebbe già qualcosa perché io li prendo scendo giù nel frattempo samuele è arrivato cenano e pace fatta insomma ci metto pochissimo e poi perché proprio mi piaceva provarla perché sento tantissime persone che mi dicono che è molto bella e poi è un ritorno alle mie origini comunque dopo questo pippone di nove minuti io vado a cercare di pensare a qualcosa da fare a pranzo e poi allora vedete questa bella busta no ora levando questi due che sono due porta merenda dentro ci sono tutti i libri di scuola ok vedete partono da qua giù e arrivano quassù sono la bellezza di 11 barra 12 libri per un bambino di prima elementare e 12 barra 13 per una bambina di quarta io devo capì ma un ragazzino di prima elementare che non sa legge scrive che caspita ci fa con 11 libri 11 11 pure il libro di arte raga libro di arte cioè io devo capì se questi non sanno né legge né scrive come fanno usa il libro di arte come fanno io boh veramente senza parole 30 euro per rilegarli tutti per rilegarli per coprirli con la foderina trasparente tutti quanti cioè non è una cosa proprio fattibile non è fattibile questa vabbè fatto sa che insomma i libri l'abbiamo presi lo zaino l'abbiamo preparato lo zaino d'alessandro è praticamente pronto manca una cosa sto aspettando perché non so neanche io che cosa sia e quello d'aurora è pronto con l'astuccio il diario non si sa che quaderni mette perché le maestre ancora non si sono fatte sentire quelle di mia figlia nei mio figlio logicamente sì perché la prima elementare e niente io ho già fatto tre volte avanti e indietro da casa a giù per diverse cose che non ve lo sto neanche qui a raccontare perché se ve lo raccontassi non ci crederete però vabbè diciamo che non c'ho una figlia sveglia mettiamola così e niente ora so le sette e dieci io ho sempre questo problema all'orologio so le sette e dieci e ora io non so se preparare la cena adesso prepararla dopo perché noi di solito facciamo sempre abbastanza tardi a mangiare però non so se poi usciamo o no questo è un punto interrogativo dipende dal tempo perché doveva mettere pioggia già da oggi pomeriggio e invece qui è tutto aperto quindi non so se usciamo o meno fatto sta che se usciamo ben venga perché andiamo a sentire un gruppo che di ragazzi che fanno cover che non ci piacciono oppure se non usciamo cominciamo la maratona della casa di carta che ovviamente io voglio fare una cosa carina per questa maratona che non vi sto qui a raccontare perché non vi voglio spoilerare nulla e quindi stay tuned però c'è un però c'ho alessandro lì che gioca con il tablet mannaggia a me a quando io ho comprato ma non c'è aurora voi direte dove è aurora aurora ancora in giro ragazzi e aurora non ha finito non ha ancora finito dove hanno finito le sette non hanno ancora finito adesso sto aspettando che mi chiama per andarla a prendere perché non è che posso farla venire su a casa da sola alle sette passate quindi aspetto che mi chiama così almeno prendo risalgo in macchina scendo giù la prendo e la porto a casa il bello è che sono un paese non sono una città quindi non devo arrivata all'altro capo dell'universo però diciamo che potevano pure sbrigarsi vabbè detto ciò io adesso mi riposo 5-10 minuti non di più ho pure steso i panni che non avevo steso prima genio che genio che genio a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.